Cinema e letteratura sono due amanti infedeli, da sempre il potere di attrazione che esercitano l'uno sull'altra si nutre di incontri, grandi passioni, tradimenti. Oggi hanno trovato un altro modo di frequentarsi, è il caso degli audiolibri, sempre più spesso chiamati a riscoprire capolavori della letteratura affidati alla voce di personalità del cinema, come Nanni Moretti che per la casa editrice Emmons ha offerto la sua personale interpretazione dei sillabari di Goffredo Parise. Gioventù Un giorno di luglio ormai lontano un uomo di 25 anni ricevette una cartolina da una ragazza di 18. La cartolina che raffigurava una spiaggia con ombrelloni e un albergo bianco dalle tende bianche e gialle al vento era stata spedita da Regione, Italia e diceva qui ci si diverte moltissimo, ciao Maria. Maria lo amava e anche lui amava Maria, ma si erano lasciati da alcuni mesi per questioni banali che a loro erano parse di fondamentale importanza. Con i sillabari Goffredo Parise illumina gli stati d'animo più nascosti della nostra esistenza, cerca di dare ordine dalla A di amore alla S di solitudine all'estremo disordine dei nostri sentimenti e Nanni Moretti ci offre un esempio di come l'ammirazione possa farsi lettura.